Cari appassionati fungaioli, prosegue la nostra ricognizione esplorativa, vedete dal rifugio Rio Re andiamo a vedere la abitaia che si trova là di fronte, quella più facile da raggiungere al rifugio Rio Re e però prima di andare là vi faccio vedere un'altra cosa da questo sentiero si può andare in quella piccola enclave che c'è tra il Rio Re e la Rossendola sostanzialmente è un crinale, non ci si arriva direttamente al sentiero ma bisogna andare un po' oltre e dalla parte che guarda la zona di ospitaletto di Rigonchio è lì, ho trovato, vedete il video che ho fatto vedere, andatevelo a vedere poi dopo questo se vi interessa una zona fungaioli interessantissima e parecchi l'hanno già vista, vedete le visualizzazioni ma io poi ora, oggi vi voglio far vedere invece questa parte di qua visto che là non ve l'ho fatta vedere mai in avventure fungaioli questa zona qua che mi ha dato altre soddisfazioni però in anni precedenti e io l'anno scorso, nel 2023, non ci sono nemmeno mai andato per un motivo o per l'altro perché sono arrivato sazio diciamo lì, in quella zona di là e quindi qua non ci sono mai andato qua è più cercata rispetto a là sì, un po' di più sì, però diciamo la verità, non è detto perché già il Rio Re è un luogo, non è che è un luogo di fungaioli sì, alcuni fungaioli ci arrivano con l'auto, è vero questo è il vantaggio, insomma, di Rio Re che va parecchio in dentro ci arrivano fungaioli ma non è detto che vadano in questa direzione a mio parere la zona migliore è di là però qua c'è un pezzetto di abetaia che vi faccio vedere che è molto buono e io ovviamente in questa ventura fungaiola do un'occhiatina anche ai marzuoli o dormienti però credo che non ci siano ancora le condizioni devo dire che qualcuno mi ha detto che li avevano trovati dopo sciolta la neve dopo sciolta la prima neve ma io non è che ci credo molto vedete qui però c'è stata la neve e quei funghi vecchi sono diventati sostanzialmente si sono incartapecoriti e diventati tutti scuri vedete, avete visto e rimangono a lungo perché sono stati sostanzialmente bruciati dal freddo e quindi sciolta la neve rimangono lì e non marciscono perché sono stati già praticamente essiccati li ho visti toccandoli sono leggerissimi quindi restano lì chissà per quanto a testimonianza insomma che c'erano dei funghi quindi in questa ricognizione mi divido fra il guardare se c'è qualche montarozzo che potrebbe nascondere i primissimi dormienti della stagione che però mi immagino di trovare a febbraio diciamo tra un mesetto secondo me si trovano però bisogna prima che ci rinevichi e poi la neve si risciolga oppure vedremo un po' questo dipenderà molto dal tempo si chiamano marzuoli ma in marzo vuol dire poco o niente bisogna beccare il momento giusto quindi quando la neve si sta sciogliendo spingono da sotto fanno il montarozzo e poi escono sono funghi come dicevo parenti di lardaioli perché sono della stessa famiglia però sono diversi questi qua invece continuano ad essere quei funghi in carta preparati irriconoscibili che sono purtroppo testimonianza di passate fungate ma non di quelle attuali diciamo in questo periodo qua probabilmente è l'unico fungo che si può trovare il marzuolo da qui fino a marzo poi dopo aprile si può discutere anche del prugnolo come sapete e poi insomma si riparte si riparte perché la stagione fungagliola per me non finisce mai devo dire invece nelle zone basse qui siamo in alto ovviamente 1400 metri 1400 eh quindi qui sono marzuoli o dormienti che sono la stessa cosa ovviamente mentre per quanto riguarda in basso continuerò a cercare perché probabilmente qualcosa non uscirà ancora fuori ho visto un montarozzo cerco di guardare proprio mentre è un rialzo di foglie frasche purtroppo è quasi sempre così andai alla Betone se andate a vedere le vecchie puntate insomma torna utile io guardate faccio l'avventura fungagliola anche per avere un diario e poi andare a rivedere dove sono stato per ritornarci l'anno dopo visto che non ho uno storico tantissimo lungo circa un anno e mezzo inizio ora a beneficiarne cioè andare a vedere dove sono stato cosa ho fatto mi ricordo tutto perché è tutto documentato nel video e quindi posso poi ritornare ad esempio come sono stato alla Betone l'anno scorso se non sbaglio era febbraio ecco potrei quest'anno rivedere quelle zone e quei montarozzi che ho trovato lì andarli a ricontrollare perché lì ho sbagliato sostanzialmente il timing di qualche giorno sostanzialmente potevano essere usciti un pochettino prima avevo avuto qualche notizia e poi sono di nuovo usciti dopo che è rinevicato probabilmente e ho sbagliato il timing lì ho sbagliato il timing alla Val Lombrosa e alla fine sono rimasto senza i miei dormienti o marzuoli non li ho trovati l'anno scorso ho fallito è un fungo difficile è un fungo difficile e per questo è una sfida interessante non è un fungo che esce dappertutto è un fungo che esce in alcune zone le impari dopo li trovi sempre ma chiaramente se parti da zero senza non uscere zone più facile trovare come vedete qua quei porcini lì che ho trovato nell'agosto del 2018 vi faccio rivedere in questa zona qui lì al tornante di questo sentierino c'erano questi due porcini eccezionali ve li ho mostrati anche nel precedente video ma non vi ho fatto vedere esattamente dove erano ed erano esattamente qua quindi al tornante del sentierino e ora vi so dire quale avete preciso perché non segna neanche il punto gps ma era evidente che era il tornante quindi difficile sbagliare ecco può essere quella pianta lì o quella accanto e si vedevano dalla strada altro dettaglio vedete qui c'è la zona ecco più o meno è quella lì perché si vedevano dal io scendevo tra lato in bici ero reduce da un cappotto non c'era niente ma probabilmente ero arrivato tardi e c'erano funghi vecchi come quelli lì vecchi insomma però erano belli sani e sostanzialmente venendo giù in discesa venendo giù abbastanza rapido in discesa ho buttato l'occhio e ho visto due enormi funghi e quindi mi sono fermato e li ero raccolti dopo un cappotto clamoroso che avevo fatto sulle montagne là dietro in Montesillano perché di qua si va anche in Montesillano si va a un passo che non mi ricordo qual è passo ditemelo voi nei commenti comunque qui c'è questo sentiero scende giù che porta il Rio Re che fa comodo anche per tornare e poi è molto segnalato il Rio Re quindi per chi fa fungociclismo che alcuni lo snobbano devo dire ma chi fa fungociclismo qui è veramente in paradiso perché sono i sentieri fantastici scende giù veloce e poi quando fai cappotto magari sei fermato dieci volte a cercare vari posti che conoscevi o meno e non va trovi i porcini io qui a dire la verità non conoscevo ero alle mie primissime armi dell'apennino reggiano non sapevo nulla non conoscevo nulla sono andato un po' ad occhio e poi fallendo poi ho trovato i porcini proprio tornando giù ed appunto da quel momento lì mi sono segnato le fungaie queste fungaie qua e ovviamente segnarsi di fungaie è un vantaggio enorme lo sarebbe anche per i marzuoli però anche lì devo partire a zero all'apertura avevo un esperto e però conosceva la zona però abbiamo sbagliato il timing quindi avevamo saputo più o meno dove erano sia le fungaie che la zona ma sbagli il timing e quindi è più difficile e naturalmente sono anche difficili da vedere i marzuoli sono difficili da vedere uno dovrebbe stare lì a guardare la sua terra tutti i rialzini del terreno e in questo momento vedete la cosa interessante è che sotto gli abeti è più facile vederli infatti vedete un po' vado raso più o meno andrebbero cercati così i marzuoli ma ve lo spiego io che non l'ho saputo cercare finora ci riuscirò vedrete nel 2024 questo proposito si realizzerà perché sono come sapete molto testone quindi riesco sempre perché sono testone non perché sono bravo quando riesco è perché sono testone e mentre qua ho visto un altro posticino interessante e là vi faccio vedere vedate la succinale là qui c'è la grande fungaia vi dicevo ma rimane dietro la fungaia vi dicevo nel video nel promo del video che ho fatto vedere all'inizio ed è fantastica qua invece c'è l'altra zona quindi non sarà un caso ma sono entrambi i versanti che sono rivolti verso nord si ovviamente sono verso nord 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 est ditemelo voi però sono dei versanti che hanno lo stesso la stessa direzione e sono buoni quando piove poco questa è un'altra cosa vi dicevo d'estate intendo buoni dove piove poco avete visto da lontano in diretta la caduta della bici l'avevo appoggiata male probabilmente il vento me l'ha tirata giù peccato andiamola a recuperare un attimo anche se non è la mia bici migliore io la tengo di conto saltiamo un giorno piccolo salto spazio temporale scendiamo di quota e vado a ritornare un po' più basso ai castagneti sostanzialmente vedete bellissimo castagneto fatto bellissimo castagno e salire poi di nuovo una faggeta qui non ci sono abeti però mi interessava dare un occhiettino anche qua sapete io sono un sognatore e sapete qui l'avete visto nei video precedenti io mostro tutto quindi potete vedere ho trovato soltanto un porcino in questa zona qua mentre qua vedete l'erba dimostra che non è nevicato a sufficienza qui allora in teoria è possibile che ci sia qualche porcino vecchio al castagno tra castagno e faggio perché qui in genere sono al castagno ma anche radicati al faggio quindi qua a sinistra sono dei faggi e io qui ho trovato solo un porcino come vi dicevo quest'anno mentre le fecce sono completamente seccate andatele a raffrontare con quelle dei video precedenti c'ero stato insomma queste sono delle zone che controllo spesso zone che mi hanno sempre dato tante soddisfazioni e quest'anno invece no probabilmente non c'è stato mai la pioggia sufficiente qui perché era mancato un po' di pioggia vi ricordate a settembre infatti sono andato a trovarli là a Rio Re e non qui perché qua era già tutto secco perché era più basso mentre Rio Re più riparato più alto l'ho trovato qui dove indico era dove c'era il porcino che avrete visto sicuramente in una delle puntate precedenti se non sbaglio qui era settembre fine settembre c'era ritornato sono stato anche ad agosto sempre guardato qui e vedete qua dove indico anche questa è una zona molto buona per i porcini ma non ce l'ho trovato e qui ho detto magari diamo un'occhiatina perché io mi è rimasto impresso vedere quel giornale Digure in Digure il 23 dicembre l'ultimo che ho visto documentato con data ecco e si hanno fatto lì i porcini il 23 dicembre in faggeta ecco ho detto ma qui potrebbero esserci certo siamo un po' più là ancora è difficile molto difficile però siccome sono un sognatore io un'occhiatina ce l'ho buttata lo stesso e l'occasione è anche far vedere delle zone fungaiole molto buone che vi posso insomma far vedere normalmente nel gruppo Delegan avventure fungaiole se uno mi chiede anche la posizione io ve la dico anche non è un problema per me darvi le posizioni delle zone come sapete perché io conosco tante di quelle fungai che ve ne dico 100 di zone e ne conosco altre 100 quindi che senso ha per me chiaramente chi ha una sola fungai lo capisco e non vuole rivela la posizione ma è ovvio ragazzi ci mancherebbe infatti in avventure fungaiole non pretendo nulla nel gruppo Delegan avventure fungaiole ognuno dice quello che vuole insomma e devo dire c'è tanta condivisione è una cosa molto bella se condividiamo la nostra passione ognuno vuole dire quello che vuole dire senza pretendere che dica chi vuole dire soltanto la regione chi vuole dire soltanto l'attitudine chi vuole dire soltanto la zona e chi vuole rivelare anche il punto GPS non c'è nessun problema e anche perché comunque io ho dimostrato anche un video con grandissime visualizzazioni che dire il punto GPS non significa zerare le fungaiole perché chi vede video non è che ci va è più facile a dire la verità se voi rivelate il punto GPS da fungai a vostro amico che ci va allora lì sì lì dovete stare attenti perché l'amico vorrebbe andarci praticamente fisso se ha magari solo quella zona da vedere quindi è un po' diverso come voi percepite e quello che succede in realtà rivelando le fungaiole detto questo io non vi invito a rivelare le vostre fungai figuriamoci però se volete conoscere qualcuna delle mie io le rivelo volentieri perché so benissimo che poi non dico non ci andate ma è molto probabile che in effetti non ci andate e sotto quelli che guardano video youtube se vedono 16.000 persone in un video dove rivela una zona non significa che ci vanno 16.000 persone a vedere ma neanche 100 ma neanche 10 forse 2 e quelle 2 ci vanno una volta sola perché magari vengono anche da lontano questo è il fatto è dimostrato quindi non vi preoccupatevi del mio rivelare fungai e intanto io salgo perché questa zona qua passa una zona più alta dove c'è possibilità di nuovo di rivedere qualche marzuolo perché vedete qui è nevicato effettivamente di più sono salendo piano piano vari stacchi comunque salgo piano piano io mi chiedevo invece per i marzuoli qual è il versante migliore perché potrebbe essere anche il versante nord per via della neve il fatto che neve ha di più il versante nord e poi si scioglie più tardi avete visto gli due versanti che ho fatto vedere prima erano versanti nord quindi quello dove c'era la betaglia e quello dietro che rimaneva sempre a nord mentre questo qua è un versante sud attenzione nel versante sud quello è successo quest'anno è che non ci ho trovato i porcini perché non era più avuta sufficienza quindi è stato penalizzato vedete intanto torrente laggiù in fondo e quindi questa zona qua dove io in effetti ho sempre trovato porcini e non nemmeno mai rivelata per il motivo che non c'è stata occasione di rivelarla non ho trovato nulla proprio perché non c'erano i porcini non c'erano state le piogge sufficienti per far uscire i porcini quest'anno mentre ho sempre trovato i funghi porcini in versanti nord sostanzialmente quest'anno perché sono mancate un po' le piogge tra estate e autunno ora probabilmente è piuvo tanto ma ormai è tardi infatti io ho dato un'occhiadina perché me ti hanno sporato ora sono usciti ora nel versante non era uscito e questa è una zona vedete anche qua questo punto qui ve lo segnalo dove effettivamente c'erano delle delle mie fungai che io sono andato a rivedere come se fosse stagione ma è sempre meglio rivederle per impararle e mantenerle nella memoria e anche più su ce ne sono altre ve le farò vedere ve le indico qui sali sali arrivo quasi alla zona che si chiama la buca quindi andiamo verso il passo Pratarena quindi siamo andati più verso un'altra zona che io ovviamente conosco piuttosto bene anche se vi dicevo queste zone le conosco da 2018 in poi quando ho potuto soffrire di quella piccola abitazione unità immobiliare diciamo che mi viene offerta insomma per andarci ogni tanto da parenti e questo ovviamente per me è importante per questo sono diventato un conoscitore diciamo ovviamente non ancora ma sto diventando un conoscitore di Appennino Reggiano che trovo più bello di tutti devo dire la verità rispetto a altri Appennini è più alto è più spettacolare è più bello poi abbiamo in Monte Cusna la zona là dalla Valle dello Zola è bellissima dal punto di vista Fungaiolo trovo sempre poco devo dire però lì devo ancora esplorare poi c'è la zona qua avete visto vi ho mostrato prima Rio Re tutta la zona di Rio Re la zona della Faggeta Mistica quindi passo Pradarena Faggeta Mistica poi dietro passo del Lupo c'è Retolaghi tutte zone estremamente interessanti poi c'è la zona dietro ancora passo Scalucchia Arpe Succiso anche lì mi rimano proprio lontano ma devo cercare e sono tutte zone molto belle che io davvero ci passo tanti giorni dell'anno ma ancora c'è tantissimo da esplorare veramente non c'è che l'imbarazzo d'acetta e qua anche qua se non sbaglio qua c'è un'altra delle mie fungaie più avanti a sinistra rimane anche qui ho sempre trovato funghi tranne quest'anno non è divertente perché ci sono rimasto un po' male quando non ho trovato il mio porcino classico e non è per i ricercatori non è perché non ho rivelato il posto che non l'ho rivelato ma è perché effettivamente questo versante sud è stato penalizzato quest'anno e quindi io non farò altro che ritentare l'anno prossimo perché le condizioni cambiano e i versanti cambiano può darsi che se qui ci venivo un mese fa o venti giorni fa forse forse qualcosina avrei visto avrei trovato ditemi se voi avete visto qualcosa sull'apennino reggiano certo sono sporadicissimi i porcini diciamo la verità però siccome ho visto in Liguria e li hanno trovati anche lì c'è l'effetto mare comunque aiuta al di più il venti giorni è possibile che qualcosina sia uscito io ho scelto in quel periodo di andare verso Montefegatese avete visto anche lì mi mancavano le uscite e anche quello se non sbaglio è un versante no quello era versante nord eh sì versante nord ma non era mai piovuto la zona Montefegatesi proprio mai piovuto e quindi il risultato è che anche lì è saltata una stagione in zone fungaiole che io avevo eccezionali per fortuna quest'anno ho compensato poi con tantissime altre zone che ho scoperto quindi mi sono trovato spiazzato completamente e ho trovato altre zone e vabbè citiamo visto che siamo qui a citare citiamo la zona San Pellegrino Alpe mi ha dato delle belle soddisfazioni nonostante sia molto cercata ma ho fatto varie uscite in quella zona là e poi la zona di Campo Cecina fino a arrivare in Lunigiana avrete visto vi ricordate la famosa fungaiola della banana perché è indicata da un fungaiolo avido che si è mangiato la banana dopo aver trovato i porcini si è messo lì e mi ha rivelato delle fungai pazzesche che ho ritrovato dove ho ritrovato vari funghi varie volte e poi da ultimo ci ho trovato i marci praticamente proprio perché non c'erano stato peccato e anche lì era da controllarci ogni pochino e vi ho fatto vedere andate a vedere i video vecchi anche lì voi potete farvi una cultura di fungai dai miei video perché sono l'unico che fa queste cose vi mostra i posti vi faccio vedere la strada voglio dire più di quello non serve neanche il punto gps e mentre vedete il vento imperversa micidiale mi godo la furia degli elementi saluto per il momento l'appennino reggiano e nella prossima puntata vi porterò molto probabilmente sul montalbano in una zona che vi ho adocchiato la volta precedente arrivederci iscriviti al canale youtube chiocciola l'eremita è gratis e attiva la campanellina per non perdere nessun video